Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con la TMV News parliamo inizialmente dell'Atalanta continua inarrestabile la marcia dei Bergamaschi verso le zone altissime della classifica Gasperini dopo la vittoria sul Brescia ha parlato di obiettivo secondo posto e non potrebbe essere altrimenti vista la qualità della sua squadra è un Atalanta che a questo punto possiamo dire che nella prossima stagione potrà anche puntare fin dall'inizio allo scudetto prima parlavamo dell'Inter con Fabio Rossitto allora riprendiamo il discorso sui nerazzurri perché c'è un giocatore che continua ad essere un oggetto misterioso Eriksen che fino a questo momento non è stato capace di integrarsi all'interno della squadra e Conte a questo punto potrebbe anche dare il via libera ad una sua clamorosa cessione dopo che il club nerazzurro aveva fatto di tutto per metterlo a disposizione dell'allenatore nel mese di gennaio ma parliamo anche del Brescia che non ha praticamente più speranze di restare in Serie A e noi siamo così arrivati alla conclusione del nostro TMV News appuntamento come sempre a domani non mancate grazie per averci seguito buona data musica 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 Autore dei sorrisi